Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sostenuta dalla regione Veneto, dal tavolo Veneto della Moda, da Union Camere Veneto, patrocinato dalla Commissione Europea e da Mise e in questo caso dal Comune di Portoguaro e da tutte le associazioni. E per, scusatemi, sono 7 miliardi che sono stati di basso, come diceva, l'italiano con oltre 100 mila punti di lavoro che vengono sottratti all'economia regolare. Di questi, oltre 10 mila, sono nel lento. E questi sono lavoratori che non avranno, anzi, non verranno contributi, non avranno tutte le, e andranno a verare domani sulle spalle di tutti quei contribuenti, di tutti quei lavoratori che normalmente fanno le imposte delle loro tassi. Però questo è quello che noi procederiamo di danno diretto, quello che è forse valutabile. C'è un danno, secondo me, molto più grave, quello che è il danno diretto, che è il danno di immagino. Perché ogni volta che il nostro brand, il nostro marco, il Made in Italy, viene usato, viene usato in modo inusuale, in modo in proprio, si increditano che si recuperano il tempo, è difficilmente stimabile e soprattutto difficilmente recuperabile, sia per noi, sia per i nostri figli. Perché quando un prodotto che viene spacciato, un prodotto di qualità, è prodotto dalle nostre mani, dalle mani sapienti, dei nostri artigiani, invece il prodotto non si sa dove, non si sa da chi, e non si sa da quali materiali, risulta essere un prodotto sicuramente di qualità inferiore. E il consumatore è un prodotto sicuramente di qualità, e per l'estracurazione, tutti i prodotti italiani saranno considerati un prodotto sicuramente, ma non lo sono, lo sono semplicemente quelli che sono stati fatti. Quindi è un dovere delle associazioni di categoria, e quando possono, perché ovviamente la nostra associazione è anche in carattere territoriale di dignità, ma deve partecipare, essere presenti a tutti i dati, a tutte le iniziative, per parlare, per denunciare il fenomeno del falso e della contrattazione. E' chiaro che i dispositivi devono avere carattere internazionale, ma noi, per quanto possiamo, cerchiamo di essere sempre presenti. Siamo presenti non solo nel campo della contrattazione, ma anche per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda il lavoro opposivo e il lavoro vero. Riusciamo anche a fare una giornata in strisca, innanzitutto di lavoro che è più cadente, in termini materiali, può essere sicuramente materiali innovativi, e se c'è di fortunio è ancora più grave per il comitente. Quindi noi lavoriamo da anni in questa direzione e continueremo a fare. Abbiamo fatto pari iniziative, come in particolare, che abbiamo stretto, prima di tutto, come comune di Portugale, che fa piacere di avere l'assessore, che è un assessore di traduttive, Paolo Bellotto, che ne parlerà di questo protocollo, che piano piano stiamo mettendo tutti gli altri comuni del territorio, che hanno detto a presso, con quali difficoltà, non ci lavoriamo in maniera assinua e quotidiana. Quindi io lascio la parola a Paolo, che parlerà un po' meglio delle iniziative che stiamo facendo, sia in tentazione del protocollo. Sicuramente, comunque sono state, diciamo, anticipate per il senso che hanno. Dico anche che il protocollo che abbiamo firmato, perché probabilmente è stato, su questo territorio, è il primo protocollo che è stato firmato su questi temi. Quindi c'è sicuramente da parte di un'amministrazione una sensibilizzazione esattamente sugli elementi di iniziative prima, da presente il confrattigianato. Un'economia corale è un'economia che consente, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista della fiscalità, dal punto di vista della creazione di valore dei prodotti, perché noi ormai sappiamo sempre di più, e l'Italia ha un'economia fatta per il 95% da piccoli delle imprese, che non è certo sulle commodity o nel fare prodotti uguali, o fare un cinese che noi andiamo a fare con l'orenza. Bisogna metterci quel qualcosa di più che noi sappiamo fare e che è in grado quindi anche di definire e realizzare a livello qualitativo dell'offerta, che poi consente alle nostre imprese anche quelle piccole, con le grandi stifichiere, con aziende più grandi e con i saluti. Ci sono impatti anche, ovviamente, dal punto di vista occupazionale, perché un'occupazione regolare è un'occupazione che tutela i cittadini, che consente ai cittadini di costruirsi un percorso, ne parliamo, non ho appena provato, ho già fatto in questo senso, ma un cittadino che ha di fronte determinate prospettive e anche in grado, a livello sociale, di essere partita di un'occupazione più libera, quindi di contribuire a sviluppare una ricchezza economica e sociale di un territorio che poi determina quel radicamento delle imprese, oltre ovviamente la capacità dei cittadini di ricevere dei servizi adeguati, che porta a quel territorio, porta quel territorio ad essere riconosciuto come un territorio rinforo, dove si sta bene, e noi, cioè, ancora possiamo dire che il vento è stato battuto da nozionami con la crisi del 2008, ma queste piccole rette che si troviamo di collaborazione e di resistenza, come direi io, che si creano tra le amministrazioni e le associazioni di economia e qual è l'idea di parlare quest'anno e trovare altre condizioni, appunto anche condizioni delle associazioni, rispetto al problema, che non abbiamo visto prima con i numeri, quasi 7 miliardi di euro, il valore delle lacce contraffatte in Italia e da lì, diciamo, siamo andati a formalizzare quello che a livello anche territoriale è molto spesso, le nostre aziende precedenti, soprattutto in questi momenti, ci chiedono a voi cosa fate, cosa vi state intendendo fare. Allora qua ci sono mostri, come a me è la sua energia, no? Un fare scuola, spesso un termine strano usato, come stai fa, e lo vediamo sul giornale 7 per fare scuola di qua, fare scuola di là, ma alla fine, alla fine della fine, abbiamo creato una campagna di sensibilizzazione verso il turista, affinché non compri materia, non compri prodotti, ad un coro chiaramente dei mai ufficiali, pericolari, perché sono pericolosi, e che non si faccia mettere le mani al corso in spiaggia da persone che non hanno i titoli di bambini, leggi, socialità e quant'altro, e quindi sensibilizzazione, quindi controllo, sensibilizzazione. E chiudo tutti le tue cose, e lascio poi la parola pazza, di conoscenza in linea, che ci spiegherà anche la pubblicità della Camera del Commercio, perché ci sono tanti gli attori che si stanno impegnando su questo abbastanza. E dicevo qui, come diceva prima, l'assessore Rett, questo, abbiamo la possibilità di vedere una summa di quello che abbiamo detto oggi, che finiremo di dire oggi, anche dal punto di vista teatrale, civile, questa sensibilizzazione, queste sono le attività che poi rimangono veramente nelle persone. E quindi questo vuole essere anche questa opportunità che abbiamo di andare ad ascoltare la partiziana di Marchi, che con una battuta prima mi dicevo, ma strano quando andava via con l'ascolta, perché le fanomiche guioni, questo lo giocavo prima fuori, fuori nella conferenza, e quindi, che non sia la conclusione reale di un percorso che continuerà, che è iniziato, diciamo, a non dire su, iniziato, secondo me, tra l'oscopo, mi chiamiamo più, quasi buone, io sono Nero Pagiano, impegnato per la pubblicità, e oggi la presento, e vorrei parlare del Tineo, perché in questo periodo ho creato molta pubblicità, lo sento questo Tineo, quindi ci chiedono, noi siamo molto impegnati in social, in tante aziende, e stiamo diffondendo questo progetto. Io partirei dal nome, l'artista Pagiano Pagiano Pagiano, è Nero, appunto, nuovo, nuovo tempo. L'idea era un gruppo di amici, artigiani, che si trovano spesso in cene, in incontri con la coppia qui davanti, in vari momenti di aggregazione. Questo gruppo, questo gruppo di amici, appunto, era stanco di esporre i propri manufatti alle fiere, in modo che funzionavano. Allora, ci sono denti, perché non creare un contesto, perché non creare un contenitore, dove possiamo mettere i nostri prodotti, ma in realtà mascherati proprio da internet di stati.